Lo scorso 5 gennaio si è tenuta una videoriunione con il direttore generale della BCC di Aquara Antonio Marino e il professor Paolo Antonio Ascierto, presidente della nota fondazione Melanoma Onlus e due suoi stretti collaboratori. A seguito dell'incontro avvenuto il 13 giugno 2020 presso la sede amministrativa della BCC di Aquara con il dottor Ascierto, continua alla collaborazione tra la BCC di Aquara e la fondazione Melanoma Onlus. Il professor Paolo Ascierto, notissimo medico oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli e ideatore della C.D. Cura Ascierto tra la fondazione Melanoma Onlus, la BCC di Aquara e il comune di Aquara si è deciso di fare una serie di attività sanitarie e territoriali. Tra le tre istituzioni sarà a breve sottoscritto un protocollo di intesa che sancirà una sinergia dove il comune di Aquara sarà ente ospitante, la fondazione Melanoma Onlus porterà tutto il suo know-how e la banca contribuirà all'erogazione di borse di studio tese alla realizzazione del progetto stesso.